Italia, bici! Il primo giorno Llegiamo dall'aeroporto E siamo pronti E siamo pronti per andare Alla prima... Sì... Che stupendoso Sì! Sì... Sì... Vi irà! L'asco! Tuomo! Non se ne! Non se ne! Noi! Stiamo sperando a los primos! Mira John 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 sto buscando a los primos Stia buscando su hermano a ver donde lo encuentra On the search just a poquito in cabronau Perché lo hermano lo contesta al celular Lolo, míralo! In cabronau, in cabronau! Contesta al celular! Sì Alla prossima Buongiorno, buongiorno Buongiorno fino a che vale tutto l'anoche che ti stava a sentar? qualcosa di Halloween tutto tutto l'ano io mi chiede l'anoche facendo tarea e ho come un par di cose questa settimana e ti ho detto che stai up to date come dormite l'ana? dormite? non lo stai è che tengo e come a le 5 am tu mi hai parlato tu stai con il telefono o algo così mi ojo è stato così a la 7 di mattina io non ti stava parlando a ti e a chi? io stava parlando a mi? a chi? a chi non ti stava parlando a esa ora? però che ti stava dicendo? non me acuerdo perché stava dormendo però sei che me lo vanté e ti stava parlando io non ti stava parlando te lo juro stava parlando? no no man io dormirei come più ora prima cosa uso il di Rara Beauty perché compro un roma rojo che mi dà molto color come che... from the start e poi ho una cara abbia dormita e poi mi pongo where is she? let me look for her è di naranja furcato e questa è linda io stava parlando uso questo è come un powder che te lo pone? te lo set tutto in place e io la amo poi uso il pinkgasm perché questo da un glow e mi encanta è subtle glow mio tío io ho usare questo hanno una casa praticamente in Tuscany e di essere il punto di questo viaggio che invitano che ci invitano che ci invitano che ci invitano per venire perché ci sono i nostri primi anche e adesso andiamo a andare a casa sì io ho usare il Dior ora ho messo tre blushes ma è che mi piace il blush questo è il punto di questa trip ayer stavamo in Milano per camminare e per noi per poter arrivare e poi oggi andiamo a casa io ho prendo la mascara e questo è quello che io ho prendo e poi ho prendo la scena con questo è abbastanza è abbastanza troppo early però la mia volta sti come confused perché me levante demasiado come che i miei oi sono così a le 6 di la mattina quindi non so cosa pensare vanno andare a sionare mi pare like mi piace mi piace mi piace ayer comemo al garete Tu eres Valeria Herrero Grazie Can you sign me? Can you sign my face? That's a lot This doesn't look real This doesn't look real Wow What's up yo? Having fun here in La Toscana Hello I have a neck pillow because we are going to the car And I always have a neck pillow in the car It's super nice I'm in shock I'm Judy Hello Hello I'm in San Jiminy San Jiminy San Jiminy San Jiminy Yeah, it's going to be happy I'm happy I'm happy I'm looking for a blue leopard I'm going to have a coffee 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 I can also share them with the気 It's great Amazing How much obedez Oh your goal Of course The love Is there any one Possibly I? Good Last These Yeah. Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti 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 Salute Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti